Abettone, Monamore, 21 agosto 1943, i bombardamenti su Pisa, ricerca fotografica, mix, audio, regia di Walter Giusto, Mario, Emilia, Walter a Pisa nel 1943, più di 2000 civili morti, tutti i ponti sull'Arno distrutti, usenti danni a tutta la città di Pisa, Pisa disfrutta dai violenti bombardamenti degli alleati. Un'altra città di Pisa, Grazie a tutti 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 Mario Giusti Il Pisano Monticimone 1942 Emilia Maria L. Valtescollati a Barzuccia